La Commissione europea proporrà di accogliere nei diversi paesi europei 120.000 rifugiati che si trovano al momento in Grecia, Italia e Ungheria. Le misure saranno presentate la settimana prossima dal presidente Juncker. In attesa, due commissari europei hanno visitato questo venerdì l'isola greca di Kos per discutere con le autorità come sostenere la popolazione ad affrontare la crisi. Kos è in prima linea, ha detto il vicepresidente Timmermans, ma Kos non può essere lasciata da sola a risolvere questo problema. È una sfida globale che richiede soluzioni europee. Signore e signori, stiamo affrontando un momento di verità nella storia europea. La Grecia riceverà 474 milioni di euro entro il 2020 per mettere a punto infrastrutture adeguate per gestire l'afflusso di migranti. Una prima tranche di 33 milioni di euro sarà stanziata la settimana prossima. Nel porto di Atene sarà creato un centro per accelerare le procedure di identificazione dei rifugiati e definire chi ha diritto all'asilo e chi no.